Sicuramente non perdonare, ma far capire a questi ragazzi comunque che hanno sbagliato perché se loro continuano a fare... Non è vero, non è vero, non è assolutamente vero, mi permetto di contestare. Ognuno è giù sperare fino all'ultimo che a qualche fenomeno che c'è al governo si accenda la lampadina. È un pericolo pubblico così come lo è stato in Sicilia, io sono siciliano, Totò Rina. Se io incontravo, Totò Rina in strada, gli sputavo addosso. Totò Rina era già una persona adulta, era già formata. No, no, lei sta dicendo ragazzata. Perché se la sono presi con un animale indifeso che non ha avuto la possibilità di difendersi. Sono ragazzi di 18 anni, ma lei non pensa che forse... Io l'ho invitati a canire in piazza, questi infami non ci sono. Sono forti con i deboli e deboli con i forti. Io non li sto giustificando. Sa se venivano qua, vediamo se riuscivano a darmi un calcio. La faccia gli diventava quanto un pallone a calcio. Questa è la verità. Io non ho detto che lei li sta giustificando. Mi sta dicendo che devo avere sensibilità e pietà. A me mi fanno schifo, come io lo devo dire. Mi fanno schifo. Signora, signora, non la sto capendo da là. Io da là non la sto capendo perché l'autoparlante... Ma lei che è venuta a fare qui? Che cosa vuole lei? Legga questo mio cartello. Io qui non avevo prove, è un anno che sto aspettando. In questa situazione invece ci sono video e fotio. Ma lei che cosa vuole? Che cosa vuole lei qui adesso? Che cosa vuole? Ho venuto il filmato e lo possiamo pubblicare. Non è che stiamo in un lavoro incondizionato. Grazie a tutti.